Come lave 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 Bisogna andare in coma la trovata Come lave Assaggiamo ancora un po' di questa roba qui che fa bene alla salute Sì 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 What's up guys Sì Sì Avete capito Si chiama Comalove Hai capito Hai capito E poi vediamo Come andrà a finire Perché è un genio Sì 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 Oh no 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 Anche Oh no Oh no Oh no di mischiarle, sai che sono la depressione oh mio dio avete capito cosa ha detto? ha detto che è un common lover ha bisogno di mischiarle oh no oh no non farlo non so suu 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 non fate l'umore Ehi, un signorino Ehi, un signorino, non lo so Adesso, mentre canta, lui, lo so, c'è un po' di loro Ehi, un signorino Ehi, un signorino Oh, no Come here Sì, 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 sì. Adesso vediamo. Questa è una roba seria. È una roba seria. Perché Louie sta inventando le cose pazzesche. Ok. Ossessione come a lover, non guardo la televisione, lasciandola di sottofondo. Sto mischiando qualche droga, faccia bianca, qualche foto, qualche posa. Mani con le corna, lingua fuori dalla bocca. Come a lover, come a lover, come a lover sì, come a lover. Come a lover, con tutta la lingua faccia fuori. Come a lover, come a... Non dobbiamo parlare forte. Dobbiamo andare piano, piano. E piano. Ok. Proviamo. Come a lover, come a lover, qualche cosa. Quando è triste, come a lover. Sì, ma cosa? Droga rosa. Sto sul mio telefono, che guardo i social. Oh, che noia. Oh, che noia. Come a lover. Oh, che noia. Oh, che noia. Conto i soldi. Sto sul mio telefono, troppo noia. Troppo noia. Oh, che noia. Oh, che noia. Ce noia. Allora. Ah, che noia. Ah, che noia. Ah, che noia. e questa è un signorino di sua nuova invenzione della musica italiana incredibile roba da amati non le fate non ho voglia di farli ma è un comma lover avete capito? è un comma lover ma non ho voglia di farli fare dei ritiri ma lo fa ok ok abbiamo già capito mi viene a voglia di mangiare mentre ascolta io signorino non è male non è proprio male è buono ma in coma non ci vado non ho voglia di andare neanche proprio non ho voglia di farli non ho voglia di mangiare ma non ho voglia di farli non ho voglia di farli ma non è così Siamo superati il livello Siamo in auto 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 Mettete mi piace condividete iscrivetevi anche nel mio canale Siamo in auto 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 Siamo in auto